Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Crash Bandicoot, Lira di Cortex, la parte 3. Nell'ultima parte abbiamo praticamente finito la prima isola, sconvincendo il primo boss, Crunch. Adesso dobbiamo iniziare la seconda, sempre con la mia ragazza. Saluta? Ciao a tutti! Sì, a posto. Andiamo. Primo? Cioè 6 alla fine, perché ora vanno come il 3, praticamente ce lo vanno a numeri. Vai, andiamo. C'è una maschera che è molto ingazzata. Ho detto che non devo mettere piedi nel suo territorio, che ci insegna lui l'educazione. Addirittura. Questo livello mi ricorda molto i primi, dove c'è la foresta. Sta piovendo. Ci sei? Sì. Però parla, porca tu, parli sempre poco. E sono concentrata. Eh, ma tu se stai facendo dei video devi intrattenere. L'ho capito, ma per intrattenere poi perdo. Vabbè, non è che devi soltanto rispondere alle domande, cioè. Come è strana la visuale di questo livello. Sta troppo a destra Crash, secondo me. Cosa? Che è successo? Dove sei arrivato? Eh? Non mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Ho detto dove sei arrivato. Eeeh... Prima checkpoint sei arrivato. No, ancora non l'ho preso. Perché praticamente ero morto. Adesso sei risuscitato. Vaffanculo. Ora sono al checkpoint. Ahia. Si lagga un po' più, no? Vabbè no. Eh, c'è il discord che comunque... No, io soltanto mi metto a editare i video lagga. No, va bene, va bene. Solo che poi iniziando quando... Quella cassa-pumpa. E' un po' come la prendo qua. Quella c'è il checkpoint. Quella c'è il checkpoint. C'è... Ah, è che in alto su quella delle panciote. Però io purtroppo sono un pro. E le ho prese tutte! Ma quelle di ferro non si rompono, va? Quale di ferro non si deve rompere. Ma ti devi premute le due? Che cazzo serve sta cosa che cammina piano piano? Ancora non è che... E sono i poteri! Sono i poteri che abbiamo preso da quella... Eh, ho capito, ma non serve a un cazzo. Cammino in punta di piedi. Eh, che serve, scusa. Pieditelo. Ma vediamo più avanti se avrà una utilità questa roba. Beh, se l'hanno messo. Comunque anch'io l'ho presa con la lana. Io sto fermando tutte le casse. Potrei un po' di... Cioè, placati! Io? Sì, sì, devi placare. Eh, anche io... Lo semplicemente che anche io ho preso con la cassa... No, vabbè, c'è la Jeep. Non è che l'avevo vista. Che palla però. Sono arrivata a livello bonus. Però prima del livello bonus c'è... Cioè, fai il livello bonus e dopo c'è la Jeep. Vedete che la vedi poco parcheggiata. Non lo so, ci sono anche io. Eh, facciamo il bonus. Tu il bonus stai facendo? Sì. Vediamo che lo finisce prima. Prendi tutte le casse, non fare la forza. Eh, no. Eh, no. Eh, no. Eh, che cosa serve la cosa di... di punta di piedi? No serve. Non esplodi sulle nitro. Eh? Eh, puoi camminare sulle nitro. Eh? Ah, vabbè, ma io se ne passo avanti. Quindi... Cammino... Oh, ma ti fa schifo la linea. Non cominciamo. Mi senti. Eh, stavi dicendo? Mentre cammino devo premere le due sulle nitro. Devo tenere premute le due. Lui può camminare anche sulle nitro e non si fa niente. Uh, bello. Vedi che serviva qualcosa di utile. Vedi che serviva... Eh, ho capito, ma non la userò... Cioè, secondo me sono solamente queste cose. Poi non serve più un cazzo. Solo che non ho preso quella vita in alto. Ma quando piace sto bonus? Tutte le cazzo ho preso. Eh no, io non sono riuscito a prendere quella in alto della vita. Io ho preso tutte e mi sono portato già a casa ben 37 vite. Anzi, forse anche 38. Qua ci vorrebbe il zopposalto. 38 vite, bitch. Ok, non è la Jeep. No, ma devi camminare al contrario. Bisogna i cinghiali che ti seguono. Sono già morto. Eh, come si accelera, scusa? Aspetta un attimo, perché sto arrivando pure io. Prova con R1. O con la X? Con la X è la molto più veloce. No, con la X non corro. A me si. A me come sono brutti i comandi. A me ne ho provato X. Ma sempre mi andrebbe meglio uno. No, no, no. Solo tenendo premuto X. Ma vabbè, ma non potevano fare una cosa del genere. Anche mi hanno fatto, c'è fine. Mi confondo perché è al contrario. Crash e la sua Jeep. Ok, diciamo che il cristallo... Già... Vabbè, ma non posso... Posso riprendere il cristallo. Perché avevo mancato una cassa. Meglio così. Ma c'è una. E vaffanculo, va! No, ci sono le casse di nitro. No, vabbè, ma è difficile sta roba qua. Guarda, sbaglio, ma ci sembra lo stesso sbaglio. Segui le mele, che le mele ti danno la direzione giusta. Io lo so. Come l'ho presa sta bomba, mo io? Io l'ho finito. Io no. Praticamente dopo che tu vai più avanti... Ho finito il livello. Sì, sì, sì. E' un confuso io perché ero rimasto in zio. Ah. Solo le casse qua l'ho dimenticato, va. Sì, due casse. Due casse non ho preso la... Ma vaffanculo, va! Ma vaffanculo, va! Per due casse. Andiamo, sei? Vale, vai nel secondo. Cioè questo qua era il primo livello. No, sì. E' praticamente quello là sotto acqua. Minchia, non finiva più sto livello. Ti ha messi bene allora, che questo è già il primo. Sei entrato nel secondo. Sì, ne... C'ho fame. C'ho fame, qualche fame. Madonna mia, come si muove è brutto. Ah, se premi sempre X, va che va più veloce. E già... Ma ho preso la medusa, apposto. Sì, lo so. No! Ecco, qui c'è una casa di nitro. Però non sono morta. Mi sembra più bello questo qua di sottacco. Rispetto agli altri. So già che non finirà mai questo livello. C'è lo squalo che sembra... Non so che cazzo sembra. E' bruttissimo. Uno squalo rosso. Eh vabbò, entrano le meduse all'improvviso. Che livello di merda. Che livello di merda. Perché sono quei... quei cosci con le spine che si abbassano. Hai visto da te? Mamma mia, gli scuoli qua come cammino, no? No, cioè puoi avere pure la maschera sotto acqua, buono. Ma sai cosa non vedo? Qualcosa che butta ai missili, te lo ricordi? Secondo me più avanti. Ma secondo me non c'è, ci dov'ha già essere. Ma secondo me c'è ed è più avanti, non so, aspettiamo. E dammelo un cazzo di checkpoint, ma li mettono sempre lontani! Ma porca puttano, che vizio di merda che c'è a sto gioco! Non è una bomba! No, non è una bomba! E' una gelatina! che riusciamo, la vedo un po' difficile. Mamma mia, qui ho ansia che mi viene qua! Vada qua qua, vada, in questo tubo che non finisce più. check point dov'hai scusa no vabbè ho perso alla fine di quel punto è proprio sotto check point ma ti ho capito dove l'ho perso volevo rifare tutto da alcuni check point troppo a lontani li mettono però non è possibile ma non hai preso il secondo check point io ho preso il terzo il secondo check point si vuole vedere quando scende sotto quel tubo sotto 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 poi c'è check point e la sono arrivata sono arrivata alla fine del tubo visto che c'è quella specie di chiusa e ho perso incredible e rimorti mamma domani ha messo la bomba c'entri del tubo aperti devi subito correre che c'è la bomba ah c'è sotto marino eccolo alla fine e no sentivo la mancanza sinceramente sai ma dovevano mettere un po' prima comunque anzi eh però c'è la bomba prima è difficile comunque perché è troppo grande è troppo grande la maschera mamma mia c'è un squalo gigante alla fine da uccidere no sto scherzando sei venuta paura di la verità guarda sempre in alto che le bomba possono cadere da un momento all'altro ma guarda queste caspita di medusa di minaccia poi troppo lontano ti fa passare la voglia ti fa passare la voglia dai guarda dove devo ricominciare aspetta un attimo aspetta un attimo parlare sempre aspetta un attimo se non si capisce niente qua aspetta un attimo una volta sti medusa sarà buono poi ma checkpoint finalmente ave maria di spina di grazie pure io se non ho tu sei benetta fra le donne benetto il futuro se no Gesù e dove è quella cosa col punto esclamativo scusa qua l'ha capito se no Gesù qua l'ha capito se no Gesù va bene va bene va bene va bene va bene va bene cacciare a me quale di merda ah poi vedi che con la x puoi buttare le bombe sotto eh grazie lo so è quello che sto facendo da prima non mi ascolto te l'ho anche te l'ho cercato di dire non mi ascolto ma che non ti ascolto vedi che le casse di sotto prendi quelle casse rompi tutto con le casse di sotto ma come si cazzo si rompono ma basta che premi x ho usato tutte le casse di niente si ho capito che basta che premo x però grazie al cazzo ciò ce n'è una che fa storia ci ho fatto già troppo tempo basta cristallo preso che roba dai già sei morto ma non accelera sto cosa cosa non sa accelerare capito qual è il problema lo sai dove ho perso ah dopo il cristallo ho preso il cristallo e mi è arrivata una bomba addosso eh la la è difficile bellezza questa cosa guarda quando finisci sto schifo beh guarda per poche casse va bene ho capito io ho finito tu aspettando che scendono le bomba sta passando o non lo è lungo ancora dopo quello che strazio ma è lungo dopo quella faccia ancora no è finito vedete è finito ok andiamo nel livello numero 8 eh aspetta ancora mi conti eh aspetta io comincio ad entrare no qua si fa notte e lascia a passare i miei livelli i miei livelli che cazzo ha detto che che la maschera di marra lascia i miei livelli per due casse due per due casse non ho preso la gemma ti rendi conto tu apri tu azzardati ad aprire il terzo livello guarda cosa succede io rimango scioccato devo aprire apri entra entra guarda cosa trovi ti dico solo una cosa cambi personaggio non si più crash e non ho neanche le abilità di crash fa una trottola che guarda non fa neanche la trottola ti da due calci quindi è una trottola di merda in più non puoi stare neanche la cosa la cosa la passerelle la cosa che cammina piano piano iniziamo si vai non hai niente questo personaggio proprio zero livelli cioè zero zero poteva e poi scivola proprio scivolosa no vabbè questo livello mi farà ingazzare a me mi ricorda il livello della foglia questo te lo giuro checkpoint pure io a buttargli la cosa addosso a buttargli il calcio ci fate tre anni non fa neanche la scivolata proprio me ne cerchi no dai il calcio al posto della scivolata ma perchè ma io come faccio se io voglio fare la scivolata col salt e infatti sono morta a quel dragon di merda sai la cosa che mi piace di questo gioco che almeno hanno messo coco ha le sue mosse c'è un personaggio diverso invece invece negli altri crash è solo una skin cioè fa le stesse cose di crash ma dove sei tu? sono arrivato fuori da quella cosa tipo dove c'è un ninja dentro e ci sono i draghetti e io ho perso il là perchè per colpirci mette tre anni a colpire il draghetti non è un draghetti non è un draghetti non è un draghetti è quella che è un draghetti è una un iguana un freaky un iguana selvaggio che ti sono umidia a fuori ho capito comunque mentre cioè lo devo colpire mentre mi avvicino ma nel frattempo mi colpisce prima l'altro hwata 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 però sai che mi piace come personaggio invece sto calcio così è tipo jackie chan checkpoint dopo è come la foglia al livello della foglia ma sono serpendico ma sono strani questi animali sono sicuro che sono ci mancava soltanto che ci davano delle vite nuove perché questo è un personaggio nuovo non può avere le stesse vite di cocco cioè le stesse vite di crash no sono caduta dopo il check point ci mancavano veramente gli spalletti che uscivano da fuori prenditi congo check point bonus ah io mi sto trovando bene mi sto piacendo questo livello infatti lo sto facendo con tanta voglia e riesco a farlo facilmente perché ci sto mettendo tanta voglia cosa ti affligge? qual è il problema? cioè non sono caduta mi ha colpito quello là con quelle lama dai ma perché non salta? madonna mia quando è stupido però sto gioco a volte non vanno proprio i comandi te lo giuro a fine bonus a morire proprio a fine bonus mi girano i coglioni a me così vaffanculo bonus finito e mi sono fatto un altro po' di vite 39 vite vai ma manca poco ho quasi 40 vite check questi episodi sono molto più lunghi cioè rispetto ci sembra che proprio la difficoltà di chi si sta proprio nel fatto che questi qua sono più lunghi è vero sì vai cristallo e gemma ho fatto tutto al 100% sì chiudiamo in bellezza amici di media shopping ok tu anche appunto sei ti ho salvato anche quindi per questo episodio è tutto ci vediamo ai prossimi due livelli e al boss e anche di questa diciamo di questi altri livelli ciao a tutti da Tiger saluta ciao a tutti alla prossima ciao a tutti